12 ingegneri indiani sono stati assunti dalla VHIT di Offanengo, azienda italiana fondata nel 1958 ed ora di proprietà della multinazionale cinese Weifu, che produce componenti per auto. L'ambiente era già multiculturale, i 541 dipendenti sono di 25 nazionalità diverse, ma ultimamente l'evoluzione del business richiede professionalità che le università italiane da sole non riescono ad offrire. Noi produciamo componenti per la filiera dell'auto, sono componenti meccanici e ultimamente con la trasformazione che abbiamo spinto anche mecatronici. Questo ci ha permesso di allargare il nostro portfoglio di prodotti e di entrare nel mercato della mobilità elettrica. Il fatto di passare da una componentistica prettamente meccanica a mecatronica ha comportato una trasformazione anche delle competenze. Abbiamo profili data scientist, profili di ingegneri elettronici, ingegneri elettrici ed elettronici, quindi è una componente molto più variegata rispetto a prima e questo crea attrattività. Noi collaboriamo con le università italiane da nord a sud, sono molto preparate, preparano persone molto competenti, ma la trasformazione digitale che stiamo vivendo oggi ha creato una tale richiesta di professionalità che le università italiane non riescono a stare al passo con la domanda. Ultimamente abbiamo fatto anche degli accordi per poter trovare personale qualificato per la parte software in India, ma naturalmente anche dalla Cina, abbiamo una società anche in Cina con la quale collaboriamo e quindi non c'è un passaporto per le competenze. Là dove troviamo le competenze cerchiamo di attirarle. Un esempio della possibilità di crescita professionale è l'ingegnere Arora, direttore tecnico arrivato nel 2016 dall'India. Io ho arrivato a un livello molto alto secondo la mia agenda, so qua anche da fiducia a persone che arrivano da fuori, che questa agenda è molto multiculturale, non solo per parlarsi, anche per vedere una fiducia a altre persone. Tu c'è una possibilità per crescere a base di tua competenza, a base di merito del tuo lavoro.